Renzo Zenobi nasce a Roma. Suo nonno, Triestino, è un sarto, come suo padre che, trasferitosi a Roma alla fine degli anni 30, diventerà uno dei più noti della capitale, vestendo anche attori come Marcello Mastroianni e Mario Girotti. Si avvicina alla musica negli anni dell'adolescenza. Con alcuni amici infatti inizia a suonare il basso nei Liquid Brains, un complesso beat, con Marcello Pizzi alla voce chitarra e Franco Citti alla batteria, riuscendo anche ad esibirsi al Piper Club, celebre locale romano dell'epoca. Dopo il diploma in ragioneria, si iscrive all'università, alla facoltà di farmacia. Nel frattempo si accosta al folk e ai cantautori americani come Bob Dylan, dall'ascolto dei quali impara la tecnica del fingerpicking. Inizia quindi ad esibirsi al folk studio, dove propone le sue canzoni, tra cui Silvia ed un tentativo di musicare brani della divina commedia che si ferma Paolo e Francesca, bella canzone che eseguirà solo dal vivo, e non verrà incisa mai in nessuno dei suoi LP. Al folk studio lega in maniera particolare con altri giovani cantautori. Francesco De Gregori, Edoardo De Angelis e Giorgio Locascio. Dopo aver fatto il servizio militare, tra l'altro anche a Siena, viene chiamato nel 1973 da Edoardo De Angelis a suonare la chitarra acustica nel primo disco da Solista di Francesco De Gregori Alice non lo sa, è lui l'artefice degli arpeggi in alcune canzoni. Ad esempio in La casa d'Ilde, nello stesso anno suona anche nell'album La mia donna di Giorgio Locascio, mentre l'anno successivo suona la chitarra e il pianoforte nel disco Francesco De Gregori di De Gregori, che lo chiama anche per il suo disco del 1975. Rimmel, è suo all'arpeggio in pezzi di vetro. Così ha raccontato De Gregori la collaborazione con Renzo. Sempre De Gregori prende un appuntamento per Renzo con la RCA e la Egno Melis. Dopo averlo ascoltato, gli propone un contratto per cinque anni. Comincia così la sua attività discografica.